benvenuti benvenuti a tutti quanti a questa nuova intervista mauro scardovelli vicino vicino a me e psicoterapeuta giurista musicoterapeuta e grandissimo amico grandissimo amico devo dire io sono stato a casa di mauro mi ha accolto come pochissime persone hanno fatto devo dire questo te lo riconosco veramente quindi per me è stato veramente un grandissimo regalo e parliamo anche di ovviamente uni aleph quindi fondatore della dell'università popolare uni aleph mauro questa volta voglio parlare con te di un argomento che mi è particolarmente a cuore è un argomento che ovviamente coinvolge tutti quanti noi perché parliamo della famiglia la famiglia in italia ovviamente viene sempre vista come il luogo protetto il luogo sicuro e in alcuni casi però possiamo dire che questo non è poi così vero ecco quindi volevo sapere innanzitutto da te parlando di famiglia e quindi la prima domanda quando la famiglia diventa un luogo invece difficile un luogo che può anche fautore diciamo così di sofferenza possiamo anche utilizzare il termine famiglia disfunzionale o addirittura famiglia tossica ecco quando questo succede mauro beh è un fenomeno che si sta diffondendo in modo allarmante perché viviamo in una società tossica quindi la famiglia è una comunità dovrebbe esserlo che sta qualcosa di più ampio ma se questo più qualcosa di più ampio è di per sé tossico la cultura l'economia la finanza è ovvio che le famiglie ne risentono negativamente però adesso oggi forse parliamo ci concentriamo sulla famiglia che cosa succede in una famiglia tanto quasi tutti i genitori hanno delle ferite d'amore non risolte dei traumi infantili non risolti e purtroppo accade naturalmente che questi conflitti non risolti dei genitori poi vengano messi in scena dai figli già come diceva Carl Jung Gustavo che anche Gustavo perché se no questo offende ecco e per cui è normale che una famiglia ci siano dei problemi e questi problemi si trasmettono di generazione in generazione alcune volte sono problemi tollerabili sopportabili e quindi la gente dice ma così la vita si in famiglia si litiga eh pazienza e con gli amici cercano di avere rapporti migliori ma altre volte il rapporto in famiglia è talmente come dicevi tu tossico che occupa molto il pensiero sia del padre che della madre ma anche i figli ne risentono in modo grave e quindi la domanda che mi sembra che certamente tu in qualche modo indiretto mi stai facendo comunque nella tua avevi detto che cosa si può fare ecco e queste ferite non risolte vanno vanno risolte cioè vanno curate così come si cura una malattia se uno ha una spina in un piede che si ha di togliere se uno si è rotto un braccio devi curare la psiche si ammala e la psiche si ammala abbastanza facilmente quindi bisognerebbe curare le ferite in primo luogo dei genitori perché queste ferite tendono poi a tradursi nei loro comportamenti non funzionali o disfunzionali per cui si possono appunto avere delle madri che sono troppo protettive oppure anche non protettive ma addirittura aggressive cioè tutta quella serie di comportamenti che tutti noi conosciamo per esperienza diretta o della nostra famiglia io qui ho 6-7 persone potrei chiedere a ciascuno di loro quali sono questi comportamenti tossici nella loro famiglia tutti nessuno mi dirà non ce n'è stato nessuno tutto andato bene ma è rarissima famiglia così quindi sono cose abbastanza comuni il problema è che curarle oggi è ancora più difficile che in passato perché più difficile perché come dicevo la società fuori non ci aiuta se faccio posso fare un allargamento certo la costituzione italiana l'articolo 3 prevede come obbligatorio per la repubblica promuovere il pieno sviluppo della persona umana perché i costituenti erano persone colte oneste che avevano una conoscenza ovviamente anche psicologica e sapevano benissimo che l'io umano è a rischio e quindi non è neppure possibile fare una democrazia come quella nostra costituzionale c'è la migliore al mondo che c'è se i cittadini non fanno un percorso di crescita personale e potremmo chiederci e che vuol dire cosa vuol dire crescita personale pieno sviluppo della persona umana ma che vuol dire ecco io quando ho studiato giurisprudenza penso anche tu quando hai fatto i tuoi studi ti sei imbattuto nell'articolo 3 l'articolo 3 dice così però i professori di diritto quando su questo tema pieno sviluppo della persona umana diciamo che lo leggono e poi vanno avanti come se fosse una cosa abbastanza marginale invece è il centro dell'impianto della nostra costituzione perché i nostri costituenti non volevano una costituzione maschera cioè qualcosa che serve a coprire le magagne di un paese ma volevano una vera costituzione un'anima del nostro paese e pieno sviluppo della persona umana se andiamo a vedere nei lavori preparatori allora lì leglio basso per esempio che è uno dei redatto uno di coloro che ha maggiormente collaborato insieme ad altri alla stesura di questo articolo ha detto pieno sviluppo cosa vuol dire intanto bisogna capire che oggi l'io umano è diverso da quello che pensavamo un tempo cioè non possiamo più pensare l'individuo contraposto allo stato questa è una vecchia concezione l'io umano è quel centro di relazioni che è in grado di vivere bene se queste relazioni sono armoniche pensate ma così nei lavori preparatori si parla di armonia delle relazioni quindi un io è un centro di relazioni e dal numero dalla profondità e dall'armonia di queste relazioni dipende dalla felicità e quindi anche l'infelicità per cui se la mia relazione con mio padre cioè le persone più vicine quelle che mi hanno mio padre o mia madre le relazioni fondamentali della mia vita non sono armoniche non sono sane ma sono tossiche il mio io con cui io poi cresco è un io intossicato poverino è intossicato non è che ci abbia colpa né è colpa né i genitori che hanno loro io così quindi tu che sei un terapeuta sei benissimo cosa c'è da fare e sai anche questo è un lavoro a volte molto impegnativo ma si può ecco se vuoi poi su questo sì 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 allora diciamo che tu ovviamente unisci questi due aspetti no la famiglia e poi ovviamente la famiglia si allarga diventa governo no quindi tutto il discorso sulle sub personalità che poi troviamo anche all'interno del tuo libro e però diciamo anche che c'è qualcosa di inevitabile cioè nel senso che quando noi nasciamo in una famiglia disfunzionale ovviamente non possiamo evitare il danneggiamento in termini appunto di mancato amore cioè nel senso questa questa è questo meccanico questo processo diciamo di danneggiamento sembra quasi inevitabile e diciamo che la domanda che voglio farti è ok è inevitabile per un ragazzo una ragazza che crescono in una famiglia disfunzionale vivere il danneggiamento del mancato amore e però possiamo recuperarlo questo mancato amore cioè c'è un modo per poter sanare queste falle per per colmare questi vuoti in qualche modo io so sono sicuro che a casa che chi ci sta vedendo persone stanno vivendo questo dolore cioè il dolore del mancato amore e ovviamente hanno una storia una storia biografica di sofferenza il danneggiamento inevitabile possiamo fare qualcosa per sanare questo danneggiamento ebbene ovviamente una domanda retorica tu lo sai bene certo che si può fare e questa tu potresti riempire un palazzo di tutte le persone con cui hai lavorato e questo questo danneggiamento è stato riparato anche solo che guardiamo in questa stanza quindi abbiamo due uno vicino all'altro cioè uno è destra l'altro sinistra poi uno un uomo una donna ma non conta ecco poi ce ne sono degli altri tutti sono passati attraverso questi questi step si dice così perché sennò in inglese bisogna dire ogni step e sì che si può fare e si può anche generare una comunità di persone risanate che quello che la bella notizia che volevo darti oggi qui da natale ad oggi siamo abbiamo lavorato per generare una comunità non persone legate da vincoli si dice così di sangue abbiamo sangue in comune però ci abbiamo è una famiglia spirituale cioè una famiglia in cui ci si riconosce perché ciascuno sostiene l'altro ciascuno ognuno di noi vuole il bene dell'altro e cerca di incrementare la felicità qui sì il compito è fondamentale ormai diventato istintivo di fare in modo che ogni nostra azione ogni nostra attività si svolga sempre in funzione di incrementare la coesione e l'amore che circola nel gruppo quello che chiamiamo la rivoluzione cristica ora questo è un esperimento che ti comunico così però devo dire che è la prima volta che lo vedo così diciamo vivo ecco non tante che ci lavori da uniale fa più di 24 anni è la prima volta che vedo persone che sono coese in questo progetto e accanto a noi io le vedo intorno c'è un altro centinaio di persone che fanno parte di questo gruppo e un domani diventeremo mille diecimila centomila ma questo è indispensabile oggi perché quando insomma parliamo da persone che si intendono subito quando tu apri la televisione io non faccio però sento la radio anche quello faccio poco ogni volta sento solamente dire delle stupidaggini delle cose false allora è una società che è tutto falso poter ricostruire il proprio io è ancora più difficile in un tempo non ci sono più orientamenti e allora è importante che noi creiamo naturalmente quando lavoriamo con le famiglie generare la favorire in un rapporto pienamente realizzato di amore tra il padre la madre tra il padre il figlio il figlio la madre i figli tra il padre la madre tra di loro perché questo è ciò che è parte della nostra umanità vera noi non lasciamo per accoltellarci siamo esseri comunitari poi questo sistema di governo mondiale vuole che noi invece diventiamo antagonisti che diventiamo competitor gli uni degli altri ma questa da follia una patologia diabolica no da diaballe inseparate noi dobbiamo ritornare ai fondamenti anche della nostra civiltà il fondamento cristico il cristo un fondo che ci ha che è stato l'iniziatore della visione dell'umanità come genere unico in cui tutti amano tutti gli altri amatevi l'un l'altro come io vi ho amato ecco invece oggi si sta verificando la via di satana odiatevi l'un l'altro come io vi ho sempre odiato ecco realizzate il mio messaggio oggi la società è satanica la economia le istituzioni tu qua quindi è prezioso che persone come te stiano lavorando in questa direzione con tanto impegno che io seguo vedo che cosa fai con tanti modelli i migliori vai sempre a cercare quello che c'è di meglio quello che ti funziona di più e noi dobbiamo sperare che tanta gente sicuramente ce n'è ma dobbiamo unirla in un unico grande progetto che è quello di creare una comunità di popolo prima o poi prima piccole comunità poi una comunità di popolo il popolo comunità è il popolo che non consente al legislatore di legiferare come cavolo di pare cioè che il parlamento sia guidato da da forze esterne vincolo esterno cosa cosa ci dice bruxelles adesso dobbiamo fare la riforma delle automobili come dice bruxelles poi dobbiamo andare in guerra come ci dice la nato poi un popolo comunità è evidente che si riunisce intorno alla propria costituzione dice io queste leggi non le non le prendo ma anche in considerazione anzi prima di tutto manda a casa i suoi parlamentari che non fanno il lavoro che dovrebbero fare rappresentare il popolo ma rappresentano gli interessi di altri nessun paese nessun popolo rappresentano rappresentano gli interessi della finanza internazionale dell'elite che vogliono schiavizzare i popoli del mondo ecco noi come psicoterapeuti psicologi dobbiamo tenere conto anche di questa direzione perché per quello che ho visto quando si lavora con una persona perché vedere che quello che gli succede dentro è una risuona molto è la stessa cosa è quello che vediamo fuori cioè il mondo esterno è tutto in lotta tra di loro cioè tutti veniamo messi uno contro l'altro dentro di noi abbiamo le subpersonità che lottano una contro l'altra ma questa malattia ecco quindi bisogna capire bene che un conto è la salute la salute è la integrità la congruenza questo gesto no che va verso l'alto le diverse parti che poi convergono verso unia centrale verso in armonia con l'anima e un popolo lo stesso dei vari vari interessi del popolo si convergono verso un punto centrale che è la costituzione i principi costituzionali a volte si dice non sappiamo che politica dobbiamo fare e la risposta è perché siete i grandi ignoranti oppure dei grandi traditori di solito la seconda o forse la prima non so perché la costituzione contiene un programma di governo perfettamente attuabile realizzabile ovviamente con enormi cambiamenti nella situazione attuale enormi perché devono cambiare le istituzioni università tutto deve cambiare ecco questo è un po il messaggio stavamo vedendo prima che tu ci chiamassi un video di Marco Guzzi che si chiama la rivoluzione della bellezza che ci ha fatto discutere per un bel po per esempio ecco io invito tutte le persone che ci seguono a vedere i video dei maestri che abbiamo in Italia Marco Guzzi Carlo Sini Vito Mancuso ma anche Alessandro Barbero se uno si comincia a nutrire di una cultura che non sia tossica che apre ad emissioni diverse e comincia già quello a creare un terreno risanato al proprio interno perché ci si intossichiamo continue notizie paure terrori possiamo aiutarci ecco poi il compito del terapeuta diventa immane diventa terribile diventa difficile ecco sì è molto più facile se c'è già una cultura che favorisce l'integrazione ecco sì Mauro facciamo facciamo così eh è è molto è molto interessante questo passaggio cioè che tu fai dalla famiglia ovviamente alla costituzione insomma inteso come famiglia allargata come modello diciamo di famiglia di ordine familiare per eccellenza torniamo però alla 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 cameretta del ragazzo della ragazza che in questo momento sono in difficoltà no torniamo in questo luogo che è un luogo di dolore un luogo di sofferenza che poi diventa anche un luogo dove fautore di sintomo no fautore di patologia in un certo senso e parliamo di queste due figure proprio cioè della figura del padre la figura della madre no queste due figure che come viene viene ripreso da Massimo Ricalcati no famoso psicoanalista italiano Massimo Ricalcati si parla di evaporazione del padre questa figura che oggi viene evaporata no siamo passati dalla dalla figura del padre padrone ad un padre che in qualche modo diventa come dire quasi un sottoposto del figlio no un padre che si ritrova a giocare col col smartphone no c'è un padre che lentamente tende ad evaporare la la sua funzione funzione principale e queste figure quando poi trovano diciamo un disordine all'interno no ti faccio l'esempio del padre è appunto assente anaffettivo e della madre assorbente iper protettiva no vediamo che nella maggior parte dei casi questi sbilanciamenti queste queste alterazioni delle figure genitoriali generano profonde insicurezze no una tra tutti vediamo il disturbo dipendente di personalità dipendenza affettiva cioè parliamo proprio di questo nel senso tocchiamo l'argomento della dipendenza affettiva poi parliamo anche di un'altra cosa che sarebbe qualcosa che questi poveri ragazzi chiusi in una stanzetta possono fare adesso parliamo di dipendenza affettiva ma loro credo che di questo non so che cosa se ne possono fare perché non è che comprendendo lo risolvono hanno bisogno avendo genitori che sono come bambini affettivi cioè piccoli non sono persone cresciute adulte e hanno bisogno di vedere qualcosa che non sia di quel livello lì comunque adesso parliamo di dipendenza affettiva allora prendiamo una madre così una madre che dovrebbe costituire una base sicura per il figlio si vede questo no base sicura cosa dovrebbe fare per il figlio nei confronti del figlio è qui questo linguaggio spero di usare un linguaggio che capiscono tutti beh in primo luogo dovrebbe mostrare affetto nei suoi confronti affetto vuol dire calore e intanto vuol dire anche dare un senso di sicurezza per dare calore sicurezza affetto no è indispensabile per un bambino piccolo poi il bambino dalla madre cosa deve ricevere beh ovviamente accettazione eh cioè accettazione vuol dire che la madre non lo giudica non gli dice questo non va bene questo non va bene cioè non lo sgrida in quel modo no perché un bambino è molto delicato accettare non vuol dire però consentire tutti i comportamenti ma gentilmente il bambino ha bisogno di gentilezza amorevole gentilezza ecco questi sono gli ingredienti che devono esserci un rapporto madre bambino calore affetto dare sicurezza amorevole gentilezza l'accettazione vuol dire che quello che fa il bambino magari può anche non andare bene ma il bambino si sente accettato come come persona deve sentirsi valorizzato riconosciuto faccio un esempio mettiamo che un bambino fa un disegno e fa il disegno che può va dalla mamma e la mamma è distratta non ha altro da fare dice sì sì vabbè mettilo lì oppure scrive due righe la prima volta che fa un piccolo componimento mamma mamma ho scritto questo la mamma sì sì ma ho da fare ecco che cosa percepisce il bambino che ci sono cose più importanti di lui cioè la mamma mette il bambino non al primo posto ma la mette dopo è secondario in altri termini la relazione la madre la cura dopo prima cura le faccende domestiche prima cura il lavoro prima cura altre cose e il bambino viene sempre dopo allora un bambino che viene sempre dopo come si sente? beh si sente una persona che non ha valore quindi bambino dice no valore io non ho valore perché non mi viene riconosciuto quindi non ce l'ho sono sbagliato io eh no per esempio no capace oppure no merito non merito non merito l'amore e qui si sviluppa la struttura depressiva si può si chiude però questi tipi di atteggiamenti materni generano ancora prima un'altra un'altra emozione che è la paura questa vedete una barchetta in cima a un'onda che fra un attimo va a fondo scende giù perché paura? ma perché se mia madre non mi mette al primo posto non sono importante per lei io sono fragile sono debole non posso fare niente nella vita non ho 40 anni non ho un lavoro non ho la mia casa dipendo dipendo realmente tutto da lei ecco qui quindi la mamma è qua il bambino è qua ora se la madre si comporta in modo affettivo allora questa dipendenza cosa diventa? inizialmente per forza il bambino è dipendente l'amica guadagna i soldi si compra la magna a lui certo che dipende dalla madre ma questa dipendenza non è un problema perché la madre amorevolmente lo acudisce perché lui ha valore questo rapporto che prima è così poi diventa così qui c'è la mamma e il bambino si sente valorizzato dalla mamma e sente che come la mamma ha valore come la mamma è degna d'amore perché si comporta come si deve anche lui è degno d'amore e questa è una relazione madre-bambino sana ma quella in cui invece il bambino non viene riconosciuto non viene visto non viene allora il rapporto madre-bambino è questo qua mamma la mamma sta qua il bambino sta qua ma la mamma non sta aiutando il bambino lo sta opprimendo ecco il bambino si sente schiacciato e qui dipende da mille ragioni sviluppa una super solità un'altra di più comunque il bambino qui comincia a sviluppare una patologia ok perché poi vedete il passaggio fondamentale da capire è che quando il bambino cresce diventa un io adulto a sua volta riproduce il rapporto che ha con sua madre per cui il bambino adulto il dio cresciuto adulto cosa fa opprime le parti piccole che ha in suo interno ecco quindi la stessa relazione che un bambino ha avuto con la madre è la stessa relazione che le sue parti piccole infantili ancora rimaste bambine hanno col suo io quindi se era patologica questa relazione è patologica questa per cui vanno curate tutte e due questa e questa la prima normalmente è questa qui questa basta contattare la persona e vedrai che ci avrà ogni persona ha dei giudizi contro di sé io non valgo non merito non e così via non sono capace nessuna nullità sono falito ecco questi giudizi pesanti che un io contro di sé questi vengono da un io patologico il quale tratta i bambini interni che non sono ancora cresciuti col dito puntato come faceva la mamma oppure semplicemente se ne disinteressa se la mamma era assente vabbè così via per cui bisogna cambiare questo rapporto qua e questi sono i cambiamenti che abbiamo visto almeno recentemente abbiamo messo a punto una tecnica velocissima per trasformare questo rapporto come si fa bisogna che l'io cambi il suo linguaggio cambi il suo rapporto con le parti piccole deve contrarre le parti più sofferenti dei suoi bambini bambini di 2-3 anni 1 anno 2 anni e parlare in modo molto diverso da quello che ha sempre fatto riconoscendo le sue responsabilità e cambiando il modo cioè trattando questi bambini interni in modo nuovo cioè nel modo sano con affetto calore dando sicurezza amorevole gentilezza accettazione tutte queste cose ci devono essere nell'io adulto nei confronti delle parti bambini quando questo accade allora si accade che i bambini che vengono visualizzati davanti a noi che sono uno vengono tristi pian pianino si avvicinano spontaneamente noi li possiamo integrare nel nostro cuore da adulti e questo è un passaggio che è decisivo vabbè mi fermo qua perché forse tu mi vuoi parlare va bene fin qui? va bene no va benissimo tra l'altro ci stiamo sempre più immergendo in questa dimensione del bambino sofferente all'interno della famiglia e aggiungo una cosa che magari può aiutarci ad ampliare ancora di più l'argomento che il bambino che è nella famiglia disfunzionale inconsciamente sente che c'è qualcosa che non va cioè lui sta percependo che c'è una disfunzione all'interno della famiglia e c'è un rimando da parte del bambino quindi diciamo che questi bambini ovviamente non vengono ascoltati proprio perché come diceva il famosissimo psichiatra americano Harold Seirless uno dei più grandi esperti sulla schizofrenia diceva proprio che il rimando del bambino spesso riceve come dire una risposta manipolativa da parte della madre o da parte del padre quindi il bambino sostanzialmente si trova di fronte uno scollamento cioè io sento delle cose ma mi dicono esattamente l'opposto mi rimandano esattamente l'opposto quindi c'è uno scollamento che è diciamo l'anticamera l'io incorporeo quindi l'anticamera della psicosi e insomma delle patologie più gravi i responsabili in questo caso sono i genitori cioè sono i genitori che devono poter riflettere l'immagine autentica che il bambino sta comunicando è la madre che deve poter dire al bambino sì io so io comprendo io capisco quello che stai sentendo non nascondere mentire manipolare il bambino allora qui si parla di follia interna del sistema il bambino percepisce la follia del sistema ma viene poi diventa caporespiatorio diventa caporespiatorio nel tempo il bambino crescendo diventa appunto il matto della famiglia caporespiatorio ecco due parole su questo che penso che sia un'immagine ancora più sì sì anche perché tu hai aggiunto una cosa che la famiglia ha una comunicazione col bambino ma anche il bambino ha una comunicazione con la famiglia e un bambino è immerso in un qualcosa di più grande di lui è la famiglia che glielo immette dentro poi in base a quello che gli hai messo risponde e per esempio sente un disagio sente rabbia sente tristezza ora questi sentimenti sono qualcosa di vero cioè se uno mi pesta in piede sento male dico sento male è una cosa giusta però se l'altro ti dice guarda che non te l'ho pestato sei tu che mi dici che l'ho pestato allora il bambino si trova di fronte a quello che potremmo dire un doppio legame da una parte credere a quello che dice la famiglia o dall'altra credere a se stesso e quindi capisci in quel modo lì non va bene nessuno perché se credo alla famiglia vuol dire che io tu in piede non me l'hai pestato ma allora vuol dire che io non posso credere alle mie sensazioni se non posso credere alle mie sensazioni perdo il contatto con chi sono e vado verso l'alienazione oppure credo a me no guarda ma ne sono accorto che mi hai pestato il piede sì ma allora cosa succede sono piccolo dipendo dalla famiglia e la famiglia mente a me cioè è una famiglia inaffidabile non mi posso fidare ma anche questo è un problema enorme no? cioè io posso rimanere dicendo no no questa mia madre mi ha proprio sgridato non è vero che non mi ha detto niente ma ho roulato in faccia e poi mi ha detto come mai mi sono spaventato però se dico sì sì è vero mia madre ha fatto così ma allora mia madre chi è? è mia madre quella lì quella strega quella strega è mia madre eh purtroppo le madri possono essere fatte di due tipi madre buona e madre strega quante ce n'è? la madre strega però allora quando parliamo di responsabilità dei genitori dobbiamo parlare insomma anche qui con un po' di attenzione perché la madre strega che colpa ce n'ha cioè se responsabilità vuole il colpa ma non è mica colpa è stata condizionata così da sua madre da suo nonno che ne so per cui c'è un pezzo della sua psica che è molto malato quando esce fuori quel pezzo va a far ammalare il bambino e guardate la situazione è veramente drammatica e noi dobbiamo mettere tutte le energie noi che stiamo parlando di questo momento per capire alle persone che questi drammi sono normalissimi sono quotidiani però questi drammi non vengono quasi mai risolti uno diventa adulto c'è là dentro poi diventa dirigente d'azienda diventa capo del governo diventa presidente della repubblica eccetera ma ce l'ha ancora dentro e questi disturbi affettivi diventano poi disturbi nella comprensione della realtà distorcono la realtà questo è un dramma è un dramma vero e proprio dobbiamo pensare che in Italia i centri di genere mentale sono sovrappopolati in questo momento c'è un grandissimo una grandissima sovraccarico nei centri di genere mentale proprio perché ci sono tanti di questi tanti di questi drammi come tu li hai definiti che sono proprio all'ordine del giorno non venendo seguiti non venendo in qualche modo sanati nel momento poi come dire si calcificano diventano patologia due immagini che voglio darti voglio sapere da te questa questa come dire appunto voglio poi da te come dire voglio voglio che tu mi chiarisci alcuni alcuni ulteriori punti mi ricordo la storia di Paolo Coelho Paolo Coelho grandissimo scrittore l'uomo che ha scritto l'alchimista cioè insomma un grandissimo Paolo Coelho racconta che lui distrusse casa dei genitori no? cioè proprio racconta proprio con la mazza da baseball distrusse casa dei genitori perché volevano praticamente metterlo in manicomio e perché ti do questa immagine? perché all'interno delle famiglie disfunzionali spesso troviamo da parte dei dei giovani diciamo dei bambini di giovani troviamo due reazioni diciamo principali una è la reazione diciamo la non reazione cioè proprio la passività cioè il bambino che di fronte diciamo questa questo dramma in qualche modo non risponde non reagisce dall'altra dall'altra parte invece c'è l'iperreattività quindi il bambino che diventa ribelle che diventa aggressivo che diventa in un certo caso come appunto ad esempio come Paolo Coelho diventa addirittura violento e tra queste due tra questi due aspetti qual è quello più funzionale Mauro? spacchiamo tutto adesso te lo dico subito quello più funzionale è vivere una famiglia sana certo quello sì quello sicuramente però nel caso in cui nel caso in cui non ci troviamo in una famiglia sana dunque facciamo così allora ci troviamo di fronte a tre cosiddette passioni tristi la paura fondamentalmente poi quella che è la struttura depressiva che nel tuo modello è la passività la passività che vuol dire anche accetto quello che c'è fino al papo sono compiacente faccio quello che le persone mi dicono e certo non faccio mai niente ti interrompo un attimo solo per dire i bambini particolarmente silenziosi quelli particolarmente buoni accondiscendenti sono poi quelli che poi nel tempo dimostrano insomma di avere insomma patologie molto gravi è perché adesso proseguono allora questa è la prima struttura che si crea l'energia vitale non potendo esprimersi verso l'esterno implode e dietro qui c'è quasi sempre un vissuto suicidiario andando a cercare nel fondo cioè mi faccio fuori io ma comunque rispetto i miei oppressori che per me non sono oppressori sono sbagliato io io no ok ma di solito si verifica sempre un'altra supersonalità magari un po' più da grande che quella narcisistica in cui io vi faccio a pezzi voi e Paolo Coelo era lì quindi il narcisista quando viene un po' più grandino non sta più in questa posizione però vi voglio far notare che queste due strutture sono sempre presenti cioè o c'è la parte narcisista depressiva al governo che tiene a bada quella distruttiva per cui il bambino è bello silenzioso per anni e anni e anni poi a un certo punto questa cresce va al governo lei e a questi punti distrugge la casa oppure questa parte depressiva viene superata gradualmente da una parte narcisista questa comincia a esprimersi un po' più forte ma non in modo così violento perché l'opposizione interna non è così forte come come c'era qua se qui c'è una pressione totale da parte narcisistica quella lì è una persona che tende poi a diventare più pericolosa perché non è che il narcisismo cioè l'energia vitale per affermare se stessi scompare semplicemente va sotto il tappeto pian pianino questa parte cresce e quindi quindi non saprei dirti cosa è meglio diciamo che c'è una terza c'è una terza opzione che mi viene in mente la storia di Herman S che viene messo in manicomio dalla 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 famiglia che però Herman S in realtà riesce a metabolizzare questo torto che gli viene subito e poi scrive le famose lettere alla madre dove racconta questo questo dramma però lì diciamo che siamo davanti il genio che potremmo ecco vederlo insomma come una una terza parte diciamo sì potremmo anche dire così allora facciamo così uno ci sono bambini che nascono già così predisposti ad amare con un'anima già predisposta ma che sono pochissimi poi gli altri due sono tendenti o più a questo o più a questo e queste sono due risposte patologiche si sta dentro il sistema il bambino rimane dentro il sistema patologico e reagisce dentro di questo senza migliorare le cose questo bambino qua che cresce oppure anche un bambino che però entra al lavoro terapeutico fa a un certo punto sviluppa questa parte riesce a vedere che i torti subiti non sono colpa di nessuno ma colpa di un karma più grande della famiglia e a questi punti come dice il buddismo accade che ogni generazione va verso il basso verso un karma sempre più grande ma se c'è un figlio che finalmente riesce come ha fatto Herman Hesse a scrivere lettere alla madre la storia della famiglia cambia il buddismo dice 27 generazioni cioè tutta questa storia che andava sempre verso il basso verso l'assoluta follia o criminalità basta uno della famiglia che allora la storia cambia però queste sono cose che accadono raramente anche se accadono e ne ho viste diverse però andiamo a vedere qua qual è di solito il normale proseguimento di una patologia di questo tipo non troppo grave beh lì si sviluppa la maschera cioè un io un io che bilancia un po' di compiacenza un po' di aggressività nei casi dove gli funziona fa l'aggressività in casi dove non può farlo si mette a compiacere e dosa queste due caratteristiche quindi lo contiene entro una misura socialmente accettabile e con questa può andare avanti tutta la vita quindi tranquillamente fare una vita normalissima però avendo dentro due patologie che si alternano e non essendoci un punto di luce l'uscita da qui passare da questo io patologico a un io che si mette al servizio dell'anima cioè un io che sia un io governo e si ispira ai grandi valori alle grandi la bellezza l'umanità la gioia la speranza l'affetto l'amore tutte le qualità dell'amore ecco un io che comincia a fare questo percorso può risanare completamente la patologia però è rarissimo che uno ce la faccia da solo di solito c'è bisogno di aiuto infatti l'io che poi in qualche modo si sovrappone all'io del paziente in terapia è proprio l'io del terapeuta cioè il terapeuta che si va in qualche modo va a rafforzare l'io del paziente quindi è proprio esattamente questo spesso spesso non troviamo questo passaggio il bambino il giovane che di sua volontà in qualche modo si rivolge ad un clinico ad un tecnico esperto possiamo vedere che diciamo quel tipo di condizione lì si protrae per molti anni fino a che poi emerge appunto come dicevi tu sotto forma di rabbia o narcisistica oppure attraverso questa maschera che poi diventa un insieme di subpersonalità per chi non lo sapesse subpersonalità un bellissimo libro di Mauro Scardovelli che a me ha servito tantissimo che si chiama proprio Crescita del Dio e subpersonalità Mauro Alice Miller grandissima psicoterapeuta amo tantissimo Alice Miller e ci parla di pedagogia nera la pedagogia nera ha fatto dei danni irreversibili nel tessuto non solo a livello possiamo parlare proprio di su scala mondiale no? in particolare poi in Italia insomma nel periodo ancora prima della guerra insomma la pedagogia nera è proprio questa escalation di violenza che troviamo all'interno della famiglia possiamo vedere ancora oggi i rimasugli di questa pedagogia nera e quale potrebbe essere lo sviluppo e l'evoluzione della pedagogia per arrivare veramente ad una come dire ad una disinfezione se vuoi di questi di questi modelli beh Alice Miller concordo con te anche per me è stata una rivelazione quando ho incontrato ho incontrato i suoi libri ho visto il tradimento che la psicanalisi ha fatto alla vera cura e questo c'è una storia anche che cioè Freud incontrava spesso incontrava pazienti che dicevano di essere stati abusati da piccoli perché questo accade nelle famiglie cioè abuso sessuale da parte di un genitore è una cosa grave gravissima e pazienti che raccontavano questo e lui Freud ne parlò con un suo amico medico di cui si fidava tanto e gli disse no ma guarda che non è assolutamente possibile queste sono fantasie questi quindi non sono bambini abusati sono bambini che hanno così delle fantasie e quindi vanno curati così e beh Freud cadde dentro questa trappola perché poi e fu una trappola perché questo medico poi ebbe un figlio e questo figlio rivelò di essere stato abusato dal padre ecco perché il padre copriva le magagne dei parenti ecco Alice Miller ha riconosciuto in questa struttura qualcosa di veramente diffuso per cui io devo dirti che ho fatto esperienza simile in un contesto dove una ragazza veniva accusata di essere di aver inventato perché secondo loro era regredita di aver accantato di essere stata abusata da un psicologo di questa struttura e siccome c'era che la psicanalisi dà questa informazione ma no ma è stata una fantasia lui diceva ha visto in me suo padre regredita si vede che ha avuto un rapporto difficile col padre e adesso colpa me l'ho vista in azione questa cosa devo dire che è devastante perché questa ragazza se non l'avessimo aiutata noi ma io per aiutarla sono dovuto uscire da quella struttura tanto per dire che il mondo di quel mondo lì della tradizione psicanalitica è forte ci credono ci credono davvero che uno si possa fare queste fantasie e beh questa ragazza stava impazzendo stava impazzendo e beh comunque la dobbiamo salvare ma per dirti che ovviamente Alice Miller vedo che anche tu la consideri un punto di svolta veramente ma lo è perché è una donna coraggiosa una donna che ha il coraggio di dire io mi stacco da questo mondo perché è falso ecco non sono molti quelli che pagano sulla propria pelle perché quando uno esce da una comunità poi perde tutti i vantaggi di essere dentro la comunità psicanalitica lei l'ha fatto credo che oggi quello che lei Alice Miller ha detto allora c'è ancora utile perché la pedagogia nera gli abusi oggi sono normalissimi nelle famiglie più o meno si sa che una ragazza su cinque ha ricevuto un abuso ma poi figurati quanti non l'hanno detto e comunque a parte gli abusi sessuali ci sono gli abusi emotivi e quelli li hanno ricevuti tutti gli abusi emotivi vuol dire l'abandono l'oppressione improvvisa il cambio di umore queste cose qui e quindi quanto mai è importante intervenire creando una nuova pedagogia cioè una vera pedagogia perché l'altra la pedagogia nera serve a far male ai bambini la nuova pedagogia e beh lì ci vogliono persone come sei tu che siete giovani sei giovane insieme ad altri che facciano sentire la loro voce la facciano sentire dappertutto con integrità unendo le forze tra di noi facendo vedere che è possibile uscirne che nessuno è colpevole anche l'abusatore è un disgraziato che va curato e così via ecco perché se invece diciamo l'abusatore è un figlio di mignotta che non doveva farlo ma come fa a non farlo è condizionato da tutta la sua struttura quindi tutti sono vittime vittime naturalmente i più piccoli vanno protetti i più grandi vanno comunque protetti dall'essere ostracizzati buttati via certo però tutti in questo modo possono essere tra virgolette salvati cioè guariti e questo è il compito della psicologia oggi la sfida è questa però il problema è che i nostri le nostre autorità quelle che governano in tutti i sensi anche l'insegnamento della psicologia eccetera non sono dalla parte nostra che vogliamo il bene loro sono purtroppo aderenti a un modello che è vecchio è antico attenzione ma è di grande prepotenza quindi la prepotenza dell'uomo sull'uomo si manifesta in forme sempre diverse mentre un tempo i bambini venivano addirittura ammazzati buttati contro un muro adesso non si fa più così perché sarebbe un reato ma il fatto di maltrattarli psichicamente si può fare benissimo non succede proprio niente si va avanti per anni e dopo ci sono dei terapeuti che prendono in cura questi bambini come se il problema fosse partito da loro ma bisogna prendere in cura la famiglia bisogna prendere in cura l'intera struttura insomma queste sono cose di cui oggi non possiamo parlare va bene? assolutamente va bene ricordo il libro di Alice Miller cioè a questo punto comunichiamolo perché potrebbe essere di aiuto che è il dramma il dramma del bambino dotato la ricerca del vero sé questo è uno dei più diciamo dei più fondamentali per proprio come autoanalisi perché è proprio un libro che fa autoanalisi da Alice Miller si arriva addirittura oggi a delle petizioni io ho visto petizioni che partono per arrivare all'obiettivo della patente da genitori addirittura quindi tocchiamo tocchiamo quasi un tasto utopistico cioè il fatto che potremmo magari in futuro vedere io credo che non è così poi così irreale pensare alla patente da genitore aspetta però dipende quale autorità danno la patente certo andiamo a vedere delle autorità di oggi che danno la patente io spero che non ci salivi mai perché la patente che gli darebbero loro è quella che i genitori hanno già adesso cioè loro sono chi deve guidare un paese che deve guidare i popoli deve essere una persona pacificata al suo interno che patenti può dare in futuro non ce ne sarà bisogno perché finalmente la verità salterà fuori perché ci sono persone di buona volontà è ovvio che un genitore se non sta bene deve essere aiutato da un'istituzione la quale deve aiutarla appena possibile addirittura prima del matrimonio cioè dovrebbe essere normale che chi ha un disagio in uno stato civile che non sia incivile che non sia pregiuridico venga aiutato quando si parla di rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale sociale vuol dire anche psichico nella Costituzione si intende anche che vanno rimossi gli ostacoli psicologici affinché dei genitori siano genitori veri e veri cioè capaci di amare questo è il grande però la Costituzione dobbiamo riattuarla perché non è stata attuata mai veramente e questo è un punto centrale ecco va bene grazie Mauro scardovelli grazie per ancora una volta per questo tempo che ci che ci che ci doni e vi ricordiamo sempre l'Università Popolare Unialef un caro saluto a tutto lo staff un abbraccio da parte mia Mauro a tutti quanti un abbraccio dal cuore grazie mille grazie ciao ciao Mauro ciao 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 ciao